Non piace proprio a tutti l'accordo fra Emirati Arabi Uniti e Israele. Le voci contrarie si alzano proprio dalle terre interessate. Palestinesi e coloni israeliani infatti rifiutano l'accordo. Le autorità palestinesi credono che vada contro il caso palestinese contro l'occupazione. I coloni sospettano che Netanyahu li stia abbandonando. La leadership palestinese annuncia il suo forte rifiuto e la condanna della dichiarazione è tripartita a sorpresa americano-israeliano-emilatina su una piena normalizzazione delle relazioni tra lo stato di occupazione israeliano e gli Emirati Arabi Uniti, in cambio di una presunta sospensione temporanea del piano di annessione palestinese e dell'estensione della sovranità israeliana sulle terre palestinesi. Se Benjamin Netanyahu vende la sovranità in cambio di un pezzo di carta, da parte di un paese che non ha mai minacciato Israele ed è lontano da noi, è una frode. Questo non è l'affare del secolo, questa è la frode del secolo. Anche il presidente egiziano al-Sisi ha espresso soddisfazione per l'accordo che dovrebbe essere firmato entro tre settimane alla Casa Bianca. Oggi vediamo che la nostra iniziativa principale non è quella di risolvere il conflitto israelo-palestinese che spetta solo a palestinesi e israeliani, ma di contribuire a disinnescare una bomba aerologeria che minacciava la soluzione dei due stati. Questa volta la bomba è stata l'annessione israeliana delle terre palestinesi, come era stata promessa in campagna elettorale da Netanyahu e Benny Gantz. Il municipio di Tel Aviv ha celebrato l'accordo con la proiezione delle bandiere dei due paesi sulla propria facciata, ma le polemiche non sono certo placate.